Ehi, salve a tutti, let's player, io non ho Manfergamer85 e oggi qui siamo sulla decima puntata di Arcade Games. Ragazzi, come vi avevo detto sull'episodio di Pac-Man, ogni dieci puntate avrei fatto praticamente un capolavoro, un titolo classico, un titolo del genere arcade che comunque ha rivoluzionato, comunque ha sfondato fra i giochi più popolari e oggi è capitato Final Fight, picchiaduro dalla Capcom, beat'em up a scorrimento, spettacolare ragazzi, spettacolare davvero. La storia è che praticamente, la storia è semplice, è stata rapita la figlia del presidente degli Stati Uniti e noi attraverso Cody e Gear, Gear è il padre della figlia, dovremmo farci largo attraverso 4-5 stage più o meno per salvarla. Ovviamente raga, come sempre, ho le solite 5 vite, ho i soliti 5 crediti già impostati. Inoltre, ho praticamente... Piano piano... Inoltre, io questo gioco l'ho anche finito, giocandolo per i cacchi miei. Questo gioco, ragazzi, lo potete trovare per... in svariate versioni lo potete trovare, lo potete trovare su... vabbè, in versione arcade, in versione Super Nintendo, in versione SNES. Infatti, è stata l'unica conversione fatta... o meglio, diciamo, su console, diciamo, questo gioco è stato un'esclusione a Nintendo, è stato. E ancora oggi è presente fra i vari... i vari cosi, i vari... attraverso la virtual console. Infatti, raga, io ve lo consiglio di giocarlo perché è veramente bellissimo. Se lo stick non mi desse problemi... Intanto sono stato eliminato. Io dove arrivo, arrivo, raga. Non mi faccio tutto il gioco perché, veramente, già finirlo una volta è stata un'impresa. Tra l'altro, c'ho anche il 2, c'ho anche. Ma non su questa versione dell'emulatore. Perché, per chi non lo sapesse ancora, io sto usando il Mame Plus. Sto usando. C'ho anche la versione... c'ho anche il 2. Però, del 2, è la versione... è una versione putlack di quella per SNES. Però sempre in versione arcade. Porca puttana lo stick. Cioè, con il tasto... ecco, lui è il boss. Questo, raga, è stato un genere che, comunque... In sala giochi è andato per la maggiore. È andato per tutto il fatto che si voleva giocare in cop. Purtroppo, quando è arrivato su console... È morto. E a me questa cosa dispiace parecchio. Perché era un genere veramente... Fenomenale. Ok, almeno... almeno, diciamo... Almeno il primo stage vorrei superarlo. Per quanto riguarda la questione dello stick, ragazzi, devo cambiarlo. Devo iniziare a considerare l'idea. O lo faccio riparare, o lo cambio. Perché veramente non posso ogni volta stare a... A incazzarmi come una bestia. Perché... Perché non volevo... perché fa i capricci. Eh, che poi, diciamo, molti personaggi... Tra cui Poison, Cody e compagnia... Poi si rivedranno nella serie Step Fighter, si rivedranno. Essendo giochi CP... Proprio... GPS, no? Roxy, diciamo, sarebbe Poison, sarebbe. Oh! Ok, abbiamo vinto. Il primo round, bene o male, si supera abbastanza facilmente. Ecco, Poison. Quella con i capelli... Rosa. Che poi diventerà personaggio della saga Street Fighter, così come Ugo. Cioè, tutti i personaggi come... Tutti quei personaggi un po' così... Tutti della saga Street Fighter. Tutti poi finiranno... In un modo o nell'altro a giocare su Street Fighter. Se non ho sbaglio... Questo... Se non ho sbagli... Il primo Final Fight dovrebbe esserci anche una versione... In digitale... Nobredina puttanata... Su... Cosu. Su PlayStation 3. Io, raga, l'unico consiglio che vi posso dare... È che... Vi consiglio di recuperarli. Capolavoro, questi capolavori. Endor Junior. Minchia! Non so quante vite mi sono rimaste. E poi che brutta fine. Cioè, è saltato... Non l'avevamo fatto saltare in aria. In caso di sconfitta. Prendi e combatti. Vai a combattere. Non sul treno. Vai. Più... Jake. Jake! Madonna, madonna. Tra l'altro una cosa molto bella di questo gioco, raga, è che... Potevi anche attaccare il tuo compagno. Potevi anche attaccare... Se si giocava in coppia, potevi fare del male al tuo compagno. Ed era una cosa molto figa. Vaffanculo. Vaffanculo. Vai, 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 vai. Ma non so quanti punti effettivi bisognerebbe... Più che punti effettivi, quanti credini sono rimasti. Quanti punti bisognerebbe fare perché io possa avere una vita extra. Io accoltello a tutti. Aiuto, ragazzi. Oh, la spada, la spada. Prendila. Ti ammazzo a tutti i colpi di spada. Prendi coltello e ammazzo fratello. No, dai. Porco Dio. Sì, ragazzi, dovrei darmi la calmata. Siamo arrivati. Questa è la tua destinazione. Io il genere dei videomappi a scorrimento l'ho sempre adonato. Sin da quando li giocavo su un Famicron. Ho bisogno di combattere. Ricaricati, ricaricati. Non deve finire il tempo perché più che altro se finisce il tempo è come se mi avessero ucciso. Come se fossi morto. Allora, non so quanti crediti... Penso di averli finiti i crediti con questo. Come è il momento del boss. E' mo' il momento del boss. Questa è bella, ragazzi. Il mitico Sodom che comunque riapparirà pure in Street Fighter. Infatti contro Guy, che è l'altro personaggio, diciamo sarà lo scontro finale se lo userete il suo dom come un personaggio di combattimento. Ma come l'ho fatto a battere l'ultima volta? Cioè i miei, come la serie, i miei disonorati. Ah, ho finito. Avevo finito i crediti. Ah, è un 1. Almeno al terzo stage ci voglio arrivare. Madonna. Non è facile, non è facile. Per questo dovrei usare le spade. Perché comunque lui è un samurai. No! Non mi interessa. Suka. Suka! Suka! Il problema a sta tecnica di velocità è che mi dà fastidio. Sono una moneta eterna. E' stato battuto. Secondo round è andato. Sì, diciamo il buon stage tipo di Street Fighter. Sì. Distruggiamo l'auto. Distruggiamola. Ce l'abbiamo fatta. 355.767 punti. Westside. Oh, mio Dio! Oh, poverino! Poverino dalla parte perché dici no. La mia auto. Distrutta. Chi è il vandalo? Allora. Ok, guarda. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, ma il bello! C'è una rissa in corso nel bar e ognuno a farsi i cazzi propri, no? No, così è tutto normale, non sta succedendo nulla di un nuovo. Anzi, la gente sta pure guardando. Quello bello che si gode lo spettacolo. Madonna, questi li odio. Sconfitto. Vabbè, ah. Game over. E va bene ragazzi, questo era Final Fight. Se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre lasciarmi un bel commento e un like. Ma scusate la pessima illuminazione che purtroppo si è fatta a sera. Stavo dicendo se il video vi è piaciuto vi ricordo come sempre lasciarmi un bel commento e un like. Di continuare a iscrivervi al canale. Di commentare, di condividere, di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video futuro. Vi passate tutti i miei social che trovate in descrizione. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo gameplay.